Musica Musica Abbiamo appena visto delle immagini di Firenze, ovviamente questa sera torniamo sulla vicenda del mosso di Firenze, una storia sicuramente complessissima, la storia di uno dei più spietati serial killer europei, sicuramente possiamo considerarlo, il primo delitto verosimilmente della serie è del 1968, l'ultimo è del 1985, 40 anni di indagini che però non hanno chiarito questa vicenda, ci sono moltissime ombre, questa sera le affrontiamo, che ha riguardato proprio la vicenda giudiziaria del Pacciani, che ricordiamo lo morirà da innocente e anche dei cosiddetti compagni di merenda, ma la vicenda è molto più ampia perché di fatto nessuno ha mai realmente creduto che questo gruppo sui generis di soggetti, di balordi, potesse effettivamente arrivare a fare ciò che questo soggetto, insomma che il mosso di Firenze ha compiuto negli anni in cui ha agito nelle campagne fiorentine. Questo secondo livello di fatto è stato più volte sussurrato, si è cercato di lavorare in quella prospettiva per rendere questa ipotesi investigativa più concreta, ma non ci si è mai riusciti. Stasera affronteremo proprio questo secondo aspetto della vicenda e lo facciamo insieme all'avvocato Nino Marazzita, un famosissimo avvocato, credo che non abbia bisogno di presentazioni, ma qui stasera ha un ruolo particolare perché è stato avvocato difensore di Pietro Pacciani nel processo di secondo grado che l'ha visto assolto, per cui la vicenda sicuramente l'ha seguita in maniera estremamente approfondita, questa sera attingeremo in maniera copiosa alla sua conoscenza del caso e poi insieme a Paolo Cocchi, regista e autore del documentario I delitti del mosso di Firenze, da cui abbiamo attinto le immagini che stiamo utilizzando largamente e abbondantemente in queste due puntate che ringraziamo proprio per questo. Anche qui un'attività comunque di approfondimento della vicenda che stasera avrà modo poi di ampliarsi ulteriormente rispetto alla settimana scorsa e cercando di evidenziare effettivamente che cosa è successo dopo l'individuazione dei compagni di merenda, quali sono stati i problemi nell'individuazione dei compagni di merenda e perché di fatto ad oggi questo è ancora un caso aperto, perché di questo purtroppo dobbiamo parlare, largamente aperto, insomma magari non in tutti i suoi distretti ma abbondantemente ancora un caso che stasera. Non è propriamente compiuto. Esatto, sicuramente c'è molto altro da sapere. Io qui comincio subito a chiamare in causa la vostra conoscenza della vicenda. Quando lei entra nella vicenda di Pietro Pacciani, come stanno le cose? Io entro subito dopo il processo di primo grado, Corte d'Assise di Firenze. Pacciani era stato condannato all'ergastolo per tutti i crimini, più o meno meno uno. Naturalmente leggo immediatamente la sentenza e la sentenza mi sembra una sentenza che assembla molte parole, è una sentenza che addirittura arriva intorno alle migliaia di pagine, però io capisco che in realtà sono parole, 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 ma non c'è concettualmente la sentenza, è priva di quell'elemento fondamentale che devono avere le sentenze di condanna, la certezza della colpevolezza. Qui non solo leggo e riscontro l'incertezza della prova, ma addirittura non trovo un elemento probatorio in chiave accusatorie. Quindi devo dire che affronto poi questo processo in secondo grado, glielo dicevo prima fuori tradizione, l'ho affrontato con una quasi certezza, la certezza è solo degli sciocchi, con la quasi certezza di poter ottenere un risultato positivo così come poi è stato. Quali sono stati gli elementi principali che hanno fatto cambiare idea alla Corte? Diciamo, la costruzione accusatoria era una specie di requisitoria contro Pacciani e come tutte le requisitorie molto cariche, molto, voglio dire, con aggiunte... Troppo emotive. Sì, emotive, accanite, c'era un accanimento, infatti io dissi nella discussione, nel processo d'appello, dissi beh questa è una requisitoria contro Pacciani ma non è una sentenza, è una sentenza declamativa ma non è dimostrativa e questo è il punto fondamentale. E di fatto si arriva alla soluzione di Pietro Pacciani. Si arriva alla discussione, quello che mi fa piacere è che poi io riesco a convincere anche il procuratore generale che era un magistrato di primoltine, il suo cognome è Toni, il quale si convince della estraneità di Pacciani a quella vicenda e chiede lui anche insieme a me la soluzione. Certo, Cocchi lei ha affrontato anche questo aspetto di questa vicenda, cos'è che non torna nella vicenda giudiziaria di Pacciani ma anche di coloro che sono stati coinvolti insieme a lui in questa vicenda? Ma diciamo, facciamo un passo indietro, il processo, il primo processo a Pietro Pacciani era un processo sostanzialmente indiziario, erano state raccolte molti indizi su Pietro Pacciani ma concretamente nessuna prova certa. La sentenza di primo grado che lo condanna invita appunto gli inquirenti a cercare dei complici, invita a cercare dei complici, di fatti nel successivo, poi vedremo che la Cassazione annullerà la sentenza di assoluzione, vengono appunto portati sul banco di imputati i cosiddetti compagni di merende, chi erano i compagni di merende? I compagni di merende erano delle persone più o meno… Della stessa estrazione di Pacciani, mettiamola così, anche inferiore. Anche inferiori. E uno di loro, comunque uno col sostegno di un altro, confessa di aver partecipato a quattro degli ultimi quattro duplici omicidi. Ricordiamo i primi tre non hanno degli esecutori e si arriva appunto a una condanna di… anche se Pacciani muore prima, nel 98. Volevo aggiungere questo, che la sentenza è stata annullata dalla Cassazione, ma è stata annullata su un solo punto, il fatto che la Corte d'Assise d'Appello non aveva accolto la richiesta della Procura Generale, quel Procuratore Generale che ha chiesto la soluzione, di ascoltare tre testimoni che erano i compagni di merenda, quelli che poi passeranno alla storia come i compagni di merenda, ma lì venivano indicati come alfa, beta e gamma. Il Presidente della Corte d'Assise d'Appello si mise a ridere in sostanza, c'era poco da ridere in quel processo con tante tragedie umane, familiari e personali. Però il Presidente disse mi fate una richiesta nel momento in cui io dovevo prendere la parola peraltro, anzi no, doveva prendere la parola il Procuratore Generale e dopo venivo io, mi fate una richiesta che è assolutamente inaccoglibile per il codice di procedura penale. La Cassazione annullò solo su quel punto, secondo me poi la Cassazione, non è che la voglio dire il Vangelo in assoluto, la Cassazione su quel punto per cui annullò quella sentenza aveva una giurisprudenza che era di segno contrario, quindi ci fu un trattamento particolare per la vicenda del mostro di Firenze che era una vicenda di grande allarme sociale. Indubbiamente. Solo per quello ritengo che la Cassazione abbia annullato quella sentenza, ripeto, in modo molto parziale, limitatamente a quella sentenza. A un elemento specifico e questo è un altro aspetto comunque molto importante. Noi adesso ci fermiamo un attimo e ascoltiamo un'intervista a Monastra che è autore del libro Il Mostro di Firenze, un giornalista che ha affrontato questa vicenda e che fornisce degli spunti piuttosto interessanti. Dobbiamo dividere in tre grandi capitoli la storia infinita del mostro. Il primo è legato ai primi anni Ottanta ed è, potremmo intitolarlo se facessimo qui un canovaccio per un giallo, la pista dei sardi. La pista dei sardi cosa vuol dire? Vuol dire un gruppo di persone collegate da amicizia, parentela e rapporti e legami anche sentimentali alle prime due vittime, all'uomo e alla donna uccisi nel 68, che in qualche modo entrano in gioco nell'inchiesta. Chi perché è sospettato, chi perché finisce in galera, chi perché poi finisce in carcere successivamente scagionando chi era in galera prima. Insomma tutto un crogiolo di legami e di perversioni anche che hanno fatto ipotizzare che proprio in quel nucleo di persone ci fosse il segreto del mostro. La seconda grande fase inizia invece alla fine degli anni Ottanta, quando già il mostro non colpiva più, intorno all'88-89, quando entra in gioco Pacciani. Pacciani viene indagato, Pacciani era il contadino, il famoso contadino di Mercatale che poi è stato appunto processato per i delitti, entra in gioco e quindi di lì l'inchiesta prende un'altra linea, una linea che si incentra proprio su Pietro Pacciani, sui suoi vecchi delitti, sulle brutalità commesse anche sulle figlie, sui precedenti che lo hanno in qualche modo contraddistinto come un possibile omicida. La terza fase è quella che si incentra sulla ricerca dei presunti, dei possibili complici di Pacciani, una fase che inizia durante il processo a Pietro Pacciani, tant'è che la sentenza di condanna in primo grado di Pacciani invita gli inquirenti a non fermarsi, ma a cercare ancora, a cercare altre complicità, ma che in realtà poi resta quasi in sonno per alcuni anni. Si risveglia invece nel finire degli anni 90, quando prende nuovo impulso alla ricerca di chi avrebbe guidato Pacciani e i suoi amici, i famigerati compagni di merenda, mi riferisco a Mario Vanni, mi riferisco a Giancarlo Lotti, li avrebbe guidati per indicare le vittime e per gestire questo mondo di perversioni che starebbe dietro ai delitti del mostro. Avvocato Marazzita, questi compagni di merenda certo rivederli alla luce di tutta la vicenda poi successiva, il terzo livello ancora, tutta la parte dei mandanti di natura esoterica e tutto un fumus, se vogliamo, di rituali di sesso e morte e quant'altro diventa davvero improbabile, insomma, come chiave di lettura. Io devo dire che sono uno dei pochi che non ho fatto grandi interviste su questa vicenda dopo che ho concluso il processo, non mi sono esibito con libri, non mi sono esibito con nulla. Ho riassunto un po' le vicende dopo l'assoluzione di Pacciana e dopo la sua morte in questo modo. Il processo è ripreso attraverso una realtà virtuale raccontata in libri molto improbabili e in interviste assolutamente inaccettabili. La vicenda del mostro di Firenze è un flop investigativo, dopo l'assoluzione di Pacciani, questo non si sopporta, i cosiddetti compagni di merenda vengono arrestati il giorno dell'assoluzione di Pacciani o durante la notte, adesso non mi ricordo, credo addirittura durante la notte. Quella giornata stessa. Sì, perché? Perché la procura di Firenze aveva capito che naturalmente tutta la sua tesi era completamente franata, franata devo dire miseramente. Una curiosa coincidenza temporale. Certo, sì, e quindi hanno cercato la rivincita e su quella base di una rivincita molto improbabile e molto soprattutto fuori dalla realtà storica, dalla realtà processuale, parte un filone che dà naturalmente molto protagonismo ad alcuni personaggi, si scrivono molti libri, si fanno molte interviste. Io me ne sono stato tranquillo con la mia coscienza a posto. Il mio unico compito era stato quello di dimostrare che Pacciani non aveva nulla a che fare con il mostro di Firenze, questo l'ho dimostrato e quindi mi sono fermato lì. Il fatto poi che la sentenza di primo grado, come effettivamente diceva Paolo, indicava di trovare complici di Pacciani, mi pare che la dice lunga, c'è la sentenza di condanna che indica, però insieme a lui guardate che ci sono stati, quando ci sono stati altri, altri mostri. Quando l'accusa su Pacciani si formalizza, si formalizza attraverso un metodo assolutamente inaccettabile, uno screening per vedere chi sono le persone nella zona di Firenze che hanno precedenti penali e che contemporaneamente sono sempre liberi nel momento in cui il mostro colpisce. Quindi voglio dire, già questa è una partenza col piede sbagliato. Io ho visto il procuratore Vigna. Consideriamo che questa tipologia di delitti era molto atipica, soprattutto per l'epoca in Italia, il primo vero serial killer degno di tali nomi che viene affrontato a livello dell'accusa.